Siamo con Lofel, alla fine di questa partita è stato premiato come miglior giocatore in pista per il Ginevra Servette. Non posso essere felice di essere il miglior giocatore di questa mattina. Non posso essere felice di questa nomina stasera dopo aver perso una partita in questo modo. Avevi già segnato in occasione della partita precedente alla Resega, il gol che era servito per vincere voi qui. Ci stai prendendo gusto in prospettiva dell'anno prossimo. Avete già segnato nell'altro gioco qui a Resega, quindi preparatevi per il prossimo anno qui a Lugano? Non lo so, mi sento bene qui nella Resega, ma fino al fine del anno sono con la Ginevra. E' sempre buono per la squadra quando puoi scoprire, ma oggi quando perdono 7-1, chi si scopre non importa, non è buono per la squadra quando perdono. Mi trovo sempre molto bene a Resega, ma quest'anno sono ancora a Ginevra e dovrò aspettare ancora un anno. Dopo aver subito 7 gol stasera, l'effetto di segnare passa in secondo piano. e poi come mai questo secondo tempo dove praticamente non ci avete capito poco o nulla? Sì, tu avessi da un gioco perfetto gioco yesterday contro Davos, ma oggi, nel secondo periodo, la squadra ha perduto la mente, più o meno. Sì, non possiamo capire la velocità che arrivano in quel gioco. Sì, abbiamo perduto tutto il gioco. Quando si scopriva 7 volte nel stesso gioco, significa che qualcosa si è vero. Sì, non eravamo bene offensivamente e difensivamente. Il gioco di boxe non era buono oggi, 5 per 5, ma non era buono. Sì, Lugano è stato più abile in velocità. Sì, abbiamo perso un po' il controllo del gioco. Anche attorno alla porta non eravamo molto concentrati. Sì, sappiamo appunto di aver perso un po' il controllo della situazione, soprattutto dopo aver subito così tanti gol tutti uno dietro l'altro, nonostante comunque fossimo in parità di giocatori. Sì, non hai partecipato alla Coppa Spengler con la Nazionale Svizzera, però il tuo sogno sicuramente è quello di andare alle Olimpiadi o ai mondiali. In realtà non eravamo stato in Spengler perché ero malato, ma per sicuramente mi sogno di andare alle Olimpiadi. ma ci vedremo il 21 gennaio, se ho chiesto o non. Sì, certo, il mio obiettivo sarà quello di giocare le Olimpiadi, nonostante questa volta non sia stato convocato per la Spengler Cup, ma dovremo aspettare il 21 gennaio per vedere lì appunto la convocazione. Come ultima cosa, speriamo di incontrarci, magari Lugano il secondo e voi i settimi, magari in un abbinamento in play-off, visto che tu a Rezca ormai devi abituare, quindi fare magari quarti con Lugano sarebbe una bella cosa. Sì, potremmo aspettare per un altro gioco qui, quindi magari devi essere... ...dicono, devi essere iniziato a giocare qui. Non ho capito questa domanda. Ok, quindi devi essere iniziato a venire a Rezca e giocare più con noi. Sì, per sicuramente, vediamo che Lugano gioca con molta velocità, quindi per sicuramente per l'anno prossimo sono pronti per giocare per questo team, ma come ho detto prima, fino alla fine della season sono con Ginevano e sarà così. Quindi niente, so il Lugano come sta giocando, sono molto veloci e sono pronti anche per l'anno prossimo, ma come ho già detto fino a quel momento io rimango ancora del Ginevra. L'ultima cosa, cosa ti ha spinto a venire a Lugano? Magari forse anche la situazione un po' particolare che c'è a Ginevra o qualcosa che ti ha spinto per venire a giocare l'anno prossimo qui a Rezca? Last thing, what pressed you to come here in Lugano next year? Maybe the situation in Ginevra? No, there was nothing about the situation in Ginevra. I mean, I just wanted to change something and I mean, coming here in Lugano I think it's a good thing for me and a good team who can win a championship. There is a very very good fans, so I mean, I'm gonna be happy to be here next year, but now we have to fight for the playoff with Ginevra, so it's gonna be like that until the end of the season. No, non è particolarmente per una situazione che c'è a Ginevra in questo momento, avevo solo desiderio di cambiare e Lugano mi è sembrata una buona opzione sia per i fan che ha, sia per le tattiche di gioco che hanno, ma fino all'anno prossimo appunto sarò concentrato con Ginevra per puntare ai playoff. Complimenti, bocca al lupo, speriamo di vederci nel playoff. Grazie.